E' bella a tutti ragazzi, sono Cilpe e sono qui oggi con i miei piccoli fans perché sono belli corti E nulla, proviamo a fare nascondino sulla nuova modalità che hanno messo su Code 4 e nulla Io non ci sto capendo un cazzo in questa modalità quindi, boh, proveremo a giocarla un po' insieme a loro Quindi salutate bella, 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 bella raga, aiuto, ma cazzo io già che metto per sbaglio, bella un bozzo Sono un cazzo di intro, sono piccolissimo No raga sono un cazzonetto Ma io non posso più fare cambi, porca troia Sono come un cazzo di intro, tutti vicini a loro, tutti vicini a loro raga Dove cazzo sono loro? Sono qua loro Aiuti mi metto dietro Aiuti Al mio tre standard, al mio tre standard, appena vanno standard No no, spero, 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 sennò capiscono Aiuto, ci mettiamo tutti qua Che testa di cazzo No vabbè raga No vabbè raga No, 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 stai fermo, stai fermo, stai fermo Aiuto ragazzi tutti qua Porca troia Oh cazzo No raga, ci sposta davanti Ma raga, ma perché non mi sta fermo, porca troia Ok, ok No, l'ho fatta, l'ho fatta, l'ho fatta Madonna raga, che fatti A chi sta sparando uno? Oh cazzo raga Puttana bastarda, questo qua mi sa per prendere aiuto Porca troia Guarda, 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 guarda che scappa Ma che pizze di merda è No, è sick, è sick Raga, home è una sedia che corre per la mappa Oh cazzo quanto è matta sta sedia raga Se no io sono io della sedia Oh cazzo la sedia No, la sedia è imprendibile secondo me Cioè devi sparare proprio a casa per prenderla Genji ma se sei morto Stai fermo, stai fermo, stai fermo Oh cazzo, stai fermo, stai fermo Genji, genji ti è passato davanti uno tre volte Vattex ne ho tre, ce ne sono quattro ma Che è il barile? No, rega sono morti, rega sono morti Guarda genji, genji, guarda genji Eh, dove lo vedi genji, scusate Guarda, rega, aiuto, aiuto Ma dove lo vedi il nome, dove lo vedi il nome Dove lo vedi il nome di chi sto guardando Eh, non lo vedi il nome, devi capire chi è dall'oggetto Devi capire Eh, ragazzi, no, ragazzi Genji è la sedia, genji è la sedia Eh, ma due sono la sedia Un'è quella che sta muovendo adesso, l'altro è l'angolo Rega, so corre, aiuto Nei computer, nei Chi è che sta trattando Guarda quanti cazzo sono? Io sono all'approvvigionamento, fate voi No, porca tre, mi sono mosso mentre mi stavo sparando Dove sei, Fefe? Aiuto Eh, sei rosso, scappa, scappa Vai nell'angolino da No, raga, ho saltato Ce l'ho in parte Vai, vai, non ti sgavano, non ti sgavano, non ti sgavano No Dai, dai, dai Oh, avete, dovete stare in vita a 17 secondi Porca troia Stai fermo, stai fermo, aiuto Stai fermo, stai fermo No, è vero, vai a cazzo duro in mezzo alla mappa Vai a trollarlo un po' Eh, ma quando uno è skillato, porca troia Il titolo cos'è? Nascondino con gli amichetti Ok, raga, non sono loro Il titolo sarà Faccio sesso in live Certo Con gli amichetti Non covio velox, attenzione Sì, metto Nascondino con velox E poi nella descrizione E invece non c'è Tra parete Ci sta No, raga, raga, raga Fondo spawn, fondo spawn È un cazzo di divano Qua ho preso tutto Ho già fatto tutto, raga per il dc attivare i carini di 6 sssh sssh ok lo sa qua rega io si dico un cazzo uno sta in noto sport rega 1 oltre che sta muovendo eccolo è mandato ok no 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 aspetta dove è qualcosa qualcosa ecco qua 3 cassetti è morto è morto beh è morto non è vero mai non è vero mai sta qua sta qua ora è scompazzo no regalo scompazzo per quanto riguarda la vista di cattolino un po' di cattolato rega che ci ha scopato un botte un botto proprio c'è scopato un botto non lo trovo più aspetta qua 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 quanto cazzo è impossibile da prendere sto coso no cazzo è impossibile da prendere cioè aiuto qua l'abbiamo perso rega aiuto no qua non l'abbiamo perso qua ci hanno scopato che è ben diverso se no fu stato malamente qua cristo dio porca troi io sono materassi e metto dietro di loro ancora? io sono materassi vedi ci può entrare io mi sono messo malissimo cazzo e io? aiuto ragazzi sono messo non in una posizione di merda di più rega guardate più ma che ritardato ma rega guardatemi rega non mi sgattano mai guardate materassi è tutto bello fede guarda chi cazzo sono oh fefe fefe guarda dove sono io che sono allo spawn degli altri e sono materassi aiuto fede fede guarda guarda ti prego guarda come sono messo cosa ha fatto ho shit ho shit ho shit aiuto no 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 questa qua è veramente la modalità più ignorante che abbiamo mai visto ok io sono materassi in midmap sono io gg ma dimmi cosa materassi oh raga mi sposto bello un botto ma perchè ti facchi sempre quelli fermi io sono materassi in mid ma frega gg aspetta 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 vado vado seguo gli altri va oh raga guarda che se se riesco a rec oddio oddio ma hai visto dove sto io oh ma ho fatto sempre ma sono male oddio non me l'hai visto no vabbè rega no che cos'è aiuto rega i posti quelli proprio belli ignoranti sono questi ma tu anni mi sono messi non posso che cioè rega non mi trovano nemmeno se mi pagano rega che cazzo di escape ho fatto no rega vi giuro no sono morto rega guardatevi rega guardatemi aiuto 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 no 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 che cazzo fa questo è bello affame affame no rega per favore aiuto non l'altro perché c'è Riff Gilbe E non posso più cambiare Oh mio dio Mi stanno passando sopra, non mi vedono Aiuto raga Ho fatto il peggio escape ever No, no Che cazzo Sono morto raga Fermi tutti No, no Gilbe guardami un attimo Va beh stavo guardando Tutta la partita Mi salgono addosso e non mi vedono Raga è una cosa incredibile Che cazzo di escape ho fatto porca troia MC si è in tavolo col computer Porca computer Questa qua è la cosa più ignorante Che abbiamo mai visto vi giuro È ignorantissima cosa raga Fermo, fermo, fermo Ma non ha sento il cartello lì Si sta guardando, si sta guardando No, no No, Gilbe Vai, ho per i gischi eh L'ho fatto Gilbe Ti prego Ragazzi vinco Ma io ragazzi vinco Aiuto No ragazzi vince Om Ciao Om salta Rischia saltando Salta Om No è vero Om Aspetta 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 Om Quando mancano dieci secondi Vai vai in giro No No Oddio 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 Porca tre distanza Oddio 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 Oh ragazzi Get cancer No ragazzi aiuto Ma regà aiuto Ma regà aiuto Ma dalla get cancer subito Porca troia Aiuto 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 Cheatmatex Oh amma ti scopro la mano Pesante questo è Oddio Mamma di Oh amma Dove C'è quello del gas Ma ragà ma non sta andato D'aiuto ma non sta andato Dove 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 sto infame Eh boh Eh ma tipo il barattolino bianco è difficilissimo da prendere Ecco 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 Ragazzi stanno fischiando Se vinciamo un round dopo gli soldi Perché Oh ragà sparate a tutti i monitor che vedete Oddio Ho fatto il nitro marker Guardi il divano Succhiamo il cazzone Bella vecilpe Bella vecilpe Uno due Oh Gilbe c'è l'altro Eh c'è uno qua Perché Aiuto Dai che li spacchiamo Puttana bastarda Ragazzi li apriamo cazzo Per fischi Eh Eh non lo spawn Rega Non lo spawn Non lo spawn Sei sicuro Sì L'ho sentito Ho sentito il fisco Ho sentito io Dove Vabbè Ce n'è solo uno Ecco 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 Dove siamo spawnati noi Rega Oddio Stiamo andato Dove cazzo mi sta creando le gambe sto coglione Oddio Sto chiate nel cazzo Pareggiate Sì Sto chiate nel vado Guarda Lì Get red Bc Get red E la prima la vinciamo Rega Mamma mia Ma quanto Ma quanto sono forte Rega